mi piacerebbe sapere come si sono saldate in te come si sono incontrate l'anima di poeta l'anima del credente e innamorato di gesù queste dimensioni come sono cresciute insieme autonomamente si sono incontrate l'essere poeta è stato in fondo derivazione dell'innamoramento per il messaggio evangelico come è andata? Gesù è un poeta quando leggiamo i Vangeli ascoltiamo la sua voce capiamo che lui ci guida ci conduce oltre ci fa vedere quello che di solito non riusciamo a vedere ci fa ascoltare la realtà in un altro modo ravvicina in una forma così intensissima la nostra umanità precaria fragile incompiuta del divino ci fa vedere nel minimo il massimo Gesù veramente è un maestro è un maestro mi sembra molto importante la lettura sapienziale della figura di Gesù la teologia per tanti secoli ha privilegiato molto la definizione dogmatica di Gesù Gesù è il figlio di Dio Gesù è il messia Gesù è il verbo incarnato Gesù e guardava un po' Gesù maestro un po' come qualcosa minore qualcosa che non era così essenziale nel confronto con le grandi definizioni dogmatiche invece di quello che abbiamo bisogno è proprio di un Gesù maestro di un Gesù poeta di un Gesù che ci racconta la vita in parabole di un Gesù che ci offre un linguaggio per capirci per avere parole avere parole per dire la gioia l'enigma il dolore di stare vivo di stare qui affrontare questa avventura senza nome che è la nostra propria esistenza allora per me Gesù è da sempre il poeta il poeta perché la porta lui non soltanto apre la porta lui dice io sono la porta questa è poesia pura e questo è Gesù non ci dà una verità non ci offre un cammino lui dice io sono la verità io sono il cammino io sono la vita questa è poesia pura allora allora